Ben ritrovati. In questa nona lezione del nostro corso di Storia della Tecnologia esamineremo essenzialmente il 300 e il 400, quindi il tardo medioevo, relativamente alla storia europea, ma non mancheremo ovviamente di dare un'occhiata a che cosa succede nello stesso periodo in giro per il mondo. Due soli secoli quindi, ma come vedrete, veramente cruciali per l'evoluzione della tecnologia e non solo della tecnologia, chiaramente la tecnologia legata alla società, da essa dipende ed essa influenza. Allora detto questo, come al solito tolgo dai piedi la mia immagine, per adesso non ci serve, eccoci, ed iniziamo. Diamo un'occhiata a una città molto vicina dalla sede della nostra università, quindi Venezia, e Venezia in questo periodo sta sviluppando capacità produttive, perché non avanza, vediamo un attimo, eccolo qui, capacità produttive nel campo, sta perfezionando capacità produttive nel settore del vetro e le vetrerie di Venezia sono in piena espansione, ma costituiscono anche una minaccia per la città. Ho già avuto modo di dirvi che molto spesso le città, sia dell'antichità che del Medioevo, ma anche in età moderna, erano colpite da incendi e avere delle vetrerie nel centro della città non poteva che essere una minaccia ulteriore di questi eventi infausti. Per cui viene deciso a Venezia di spostare tutte le vetrerie nell'isola adiacente di Murano. È una misura di protezione, di cautela verso la salute, la salvaguardia della città, ma in realtà ha un effetto complementare, che è quello di raccogliere tutte le vetrerie vicine l'una all'altra. In altre parole, si viene a creare un vero e proprio comprensorio industriale. Ed è il primo caso europeo in cui si verificano un evento di questo tipo. Qualcuno addirittura ha proposto di considerarla la prima Silicon Valley. La Silicon Valley è un comprensorio high-tech in California, a sud di San Francisco, dove si è concentrata l'informatica e la microelettronica. Poi è andata anche in altre direzioni, lo vedremo. Ma visto che il vetro si fa anche con il silicio, il primo comprensorio, se vogliamo essere onesti e fedeli all'etimologia, è proprio quello di Murano. Questo porta il vetro veneziano ad affermarsi sempre di più sui mercati, non solo nazionali ma anche europei, e per molti secoli rimarrà il migliore in Europa. Farò sì che Venezia riesca ad ottenere dei guadagni notevoli da questi commerci, vedremo quando tutto questo finirà, ma fa sì anche che i vetrai siano una categoria professionale estremamente importante per Venezia, e quindi godono di privilegi speciali, ma ovviamente non devono diffondere i segreti della lavorazione del vetro di Venezia. E quindi, come è successo in altre occasioni, abbiamo già avuto modo di incontrare casi analoghi, le tecniche vetrarie vengono tenute segrete a Venezia ed è proibito ai maestri vetrai di Murano di abbandonare la Serenissima. Che vetri si ottengono in questo contesto? Lì vedete in quella stampa, che tra l'altro è posteriore, chiaramente l'operazione di soffiatura al cannello, la tipica lavorazione veneziana. Ecco, una cosa che si può ottenere con quel tipo di lavorazione la vediamo nella prossima slide. Bisogna dire anzitutto che effettivamente la qualità dei vetri veneziani era nettamente superiore a quella di altri comprensori di produzione del vetro, perché era stata inventata una tecnica produttiva che utilizzava polvere di quarzo e questo faceva sì che il risultato fosse un vetro particolarmente trasparente, brillante, che veniva chiamato appunto cristallo. Ovviamente non è una struttura cristallina in senso tecnico, ma i cristalli veneziani nascono proprio qua. Quello che vedete nella... Oh, come al solito vedo di attivare il mio puntatore. Eccolo qui, mi piace di più. Quello che vedete in questa foto, in questa immagine, è una modalità di lavorazione del vetro al cannello che consisteva nello schiacciare la bolla di vetro una volta soffiata, ridorla ad un disco, poi staccare il cannello, vedete che si vede benissimo la traccia di dove era attaccato il cannello, per formare questi dischi trattenuti da un'intelaiatura tipicamente di piombo, di materiale metallico abbastanza tenero, e poi ovviamente ci sono dei riempitivi fatti con questi triangoli che fanno sì che si possa creare un'intera vetrata. Questa è la tipica vetrata alla veneziana che trae origine proprio dalle lavorazioni di quell'epoca e che verrà mantenuta per molto tempo ancora. Questa è una fotografia recente, se ne trovano ancora facilmente in giro. Bisogna dire che, più o meno contemporaneamente o poco dopo, anche in Germania veniva sviluppata una tecnica di lavorazione del vetro per produrre finestre. Loro invece che schiacciare l'ampolla trasformandola in un disco, la allungavano trasformandola in un cilindro, poi la aprivano e quindi dal cilindro ottenevano un foglio di vetro, non molto grande, fate conto delle dimensioni di un foglio da disegno, di una quattro cose del genere, tipicamente, e di nuovo, combinandole con dei tilai, questi singoli fogli, si otteneva la possibilità di coprire l'intera vetrata. Altra lavorazione notevole è quella dei vetri colorati, che trovava la massima manifestazione nelle grandi vetrate, che vedremo presto dove trovavano spazio, è anche indicato, in particolare, nelle vetrate delle grandi chiese, come le chiese gotiche, e qui bisogna dire che le capacità artigianali erano diffuse ampiamente in Europa, in particolare nel nord della Francia, a Chartres in particolare, erano stati sviluppati dei procedimenti per ottenere dei colori particolarmente brillanti e suggestivi, uno in particolare, il blu, che divenne famoso come blu di Chartres. Di nuovo, qui abbiamo ancora una volta una prova della volontà di mantenere i segreti di lavorazione, perché la ricetta, la procedura per ottenere il blu di Chartres, fu tenuta segreta da quegli artigiani, non venne rivelata, poi venne dimenticata, e ancora oggi non si sa esattamente come ottenevano questi magnifici effetti i vetrai che lavoravano alla cattedrale di Chartres. Qua vedete un'altra manifestazione di questo tipo, i tasselli che realizzano appunto un intero mosaico. Bene, procediamo. Altra, torniamo ancora a Venezia, anzi, Venezia in questo momento sta diventando una delle città più ricche e potenti d'Europa, grazie alle sue produzioni artigianali, grazie ai suoi commerci, ma anche grazie alla capacità di controllare le navigazioni in Mediterraneo, a un certo punto poi non solo in Mediterraneo. Le galee veneziane usciranno presto e escono presto dallo stretto di Gibilterra per navigare verso il nord Europa, raggiungere l'Inghilterra, le città del mare del nord, della lega ansiatica e così via, dove di nuovo sono in grado di sviluppare dei commerci estremamente profitti. Ovviamente alla base di questo c'è anche una capacità di cantieristica navale di primo ordine, che è organizzata purezza in una struttura specifica che è l'arsenale. Nel 1325 viene creato un nuovo arsenale, esattamente l'arsenale nuovo, che tuttora è visitabile, per chi è pratico di Venezia sa di cosa sto parlando, spesso lì si organizzano oggi delle mostre, e che allora era un straordinario cantiere, che era la base della potenza navale di Venezia, che verrà ampliato ancora successivamente, man mano che le esigenze di cantieristica, di produzione navale crescono, nel 1473, nel 1570, e che è in grado di produrre l'intera catena di produzione delle navi, in particolare delle galee. Non può che essere così, ovviamente. Non potevano andare a comprare galee altrove, erano loro che le sapevano fare e dovevano farle da zero. Questo voleva dire che questo comprensorio disponeva di capacità professionali articolate, in cui lavoravano in certi momenti anche migliaia di persone, venivano chiamate dalla Repubblica, gli artigiani, a contribuire allo sforzo costruttivo dei cantieri, e si trattava quindi di persone che avevano le capacità di maestri d'ascia, quindi costruttori di scafi, calafatai, coloro che impermeabilizzano gli scafi, i velai, i cordai, ma anche ovviamente le tecniche di inaugurazione immateriali, chiamiamole così, quindi i cartografi e così via. Realizzare una nave in quell'epoca era un'impresa tecnica notevolissima, probabilmente le galee erano le macchine più complesse che venissero costruite in quell'epoca, e in questo appunto Venezia eccelleva, non solo per le capacità specifiche, ma anche per le capacità organizzative che erano custodite nell'arsenale, che permettevano di produrre in serie le parti intermedie, di organizzare le vere e proprie linee di montaggio, tanto da far sì che l'arsenale di Venezia di allora viene considerata la prima area industriale mondiale, almeno dai tempi classici, perché pare che Cartagine avesse un'organizzazione analoga, prima ovviamente di scontrarsi con Roma nelle guerre pubbliche, come abbiamo visto, e rimanere sconfitta e venire di conseguenza distrutta. È una prima fabbrica, quella dell'arsenale di Venezia, a tutti gli effetti in senso moderno, e farà da esempio poi ad altri arsenali, sia navali che terrestri, che verranno imitati da altre nazioni, da altre potenze, e sono questi i primi esempi di strutture produttive complesse, in altre parole delle anticipazioni di veri e propri sistemi produttivi industriali. Adesso facciamo un salto in Francia, qualche anno dopo, ma per raccontare di un italiano che lavorava lì. Siamo alla corte di Filippo VI di Francia, che immagina di organizzare, che desidera organizzare, un'ennesima crociata. In realtà l'epoca delle crociate è finita, come abbiamo visto, quindi non verrà mai realizzata questa crociata, ma ha al suo servizio una persona di cultura e di genio italiana, Guido Davidevano, che è un medico, ma è anche un ingegnere, un tecnico, che in vista di questa impresa programmata dal re di Francia, progetta una serie di macchine che dovrebbero servire ovviamente nelle operazioni militari. E di questo lavoro di progettazione è arrivato a noi documentazione in un taccuino, simile a quello di Villardio Neocorti, cui vi ho parlato nella lezione precedente, e di cui vedete qui rappresentate un paio di pagine, che sono un'eccellente testimonianza dei livelli a cui è arrivata la tecnica meccanica allora e anche di come la meccanica, se vogliamo, veniva rappresentata, di quali erano le tecniche di descrizione grafica di questi progetti. Qui vedete in particolare una macchina mossa da un mulino a vento, è questa. Qui si nota la ruota a pale di un mulino, disegnata piccolina, dovrete appastarsi dentro nel foglio, che aziona tutta una serie di ingranaggi che vedete qui, che trasferiscono il moto alle ruote e che quindi permettono a questa struttura di muoversi, mossa dal vento. È disegnata e mai realizzata. Come pure, qui si vede una barca molto interessante, questa è un'imbarcazione con dei galleggianti, come vedete, la cosa interessante è che è dotata di una propulsione con ruote a pale. Le ruote a pale sono queste e sono mosse da un albero a gomiti. Lo vedete rappresentato qui uno e qua ce n'è un altro. Qui di nuovo soluzioni molto avanzate. In realtà qualcosa del genere era già presente in un libro, in un trattato dell'epoca del Tardo Impero romano, ma queste cose erano state poi abbandonate e vengono, per quanto ne sappiamo, riprese in questa epoca di fioritura della meccanica. Come vedete, è una meccanica quindi orientata non solo a fini produttivi, di questo abbiamo già parlato nella lezione scorsa, ma anche a esplorare possibilità innovative. Bene, detto questo, bisogna dire che proprio negli anni in cui si facevano queste, si manifestavano queste innovazioni, cominciarono ad apparire degli eventi molto tragici in Europa in sequenza che fanno sì che il 300 venga considerato un secolo di catastrofi. Effettivamente c'è questa concentrazione di questi fatti, adesso li commentiamo tra un attimo, che fanno sì che l'Europa precipiti in una profonda crisi con un grave arretramento socio-economico iniziale, ma che diventa anche uno stimolo a innovazione. Allora, vediamo di che cosa sto parlando. Anzitutto, in particolare in Nord Europa, tra il 1315 e il 1322 con una acutizzazione in particolare nei primi anni, si verifica una grande carestia, poi arriva la grande epidemia di peste tra il 1345 e il 1351 che colpisce di fatto tutta l'Europa, praticamente tutta l'Europa e come se non bastasse a queste catastrofi naturali si aggiungono anche delle catastrofi di socio-politiche quindi volute dagli uomini. La prima fondamentale è la guerra dei cent'anni che vede fronteggiarsi Francia e Inghilterra, ma poi anche un altro evento che ha effetti gravi catastrofici è il trasferimento del papato ad Avignone, lo scisma ad Occidente a un certo punto, per un certo punto ci saranno due papi, uno ad Avignone e uno a Roma, un papa e un antipapa che ovviamente scomunicheranno reciprocamente il competitore e poi si verificheranno anche specialmente verso nella seconda metà del secolo tutta una serie di tumulti popolari che hanno diverse cause ma che ovviamente sono effettivamente degli eventi catastrofici puressi. La percezione della caducità della vita umana è ben rappresentata in molte opere d'arte di quell'epoca, una veramente notevole è quella che vedete rappresentata in questa fotografia, ci troviamo a Palermo quindi anche a Palermo nel sud d'Europa erano ben presenti questi fatti drammatici. allora parliamo della grande carestia siamo in un'epoca di mutazioni climatiche dopo che c'è stato un lungo periodo caldo che ha favorito lo sviluppo dell'agricoltura di cui abbiamo già parlato nel 1300 comincia a manifestarsi una mutazione climatica che evolve poi verso quella che viene chiamata piccola era glaciale e che avrà un picco tra 1600 e 1700 con inverni molto freddi stati tiepidi e brevi piogge torrenziali e questo in modo in particolare ovviamente nell'Europa settentrionale l'effetto è che i raccolti diventano modesti non sono più in grado di sostenere la popolazione che nel frattempo era cresciuta notevolmente grazie al punto al boom agricolo di cui abbiamo parlato si stima che tra il 1000 e il 1300 fosse passata la popolazione europea da 40 milioni a 80 milioni quindi una rottura dell'equilibrio tra la quantità il numero la dimensione della popolazione e le risorse alimentari conseguenza fame epidemie mortalità elevata ci sono ampi ritrovamenti di sepolture di massa di persone che morivano appunto in gran numero in quest'epoca specialmente in nord Europa Inghilterra e così via ora tutto questo è una minaccia terribile è evidente ma come sempre queste condizioni di minaccia pensate a quello che vi ho detto a proposito delle epoche glaciali durante il paleolitico sono anche stimoli a reagire se si vuole sopravvivere bisogna darsi da fare inventare nuove tecniche nuove soluzioni funzionali ovviamente alla sopravvivenza quindi nuova tecnologia a tutti gli effetti e in particolare nuove tecniche agrarie e queste saranno lente ad affermarsi i primi paesi ad uscirne sono l'Olanda e l'Inghilterra e non a caso a un certo punto loro diventeranno delle nazioni prospere che anticiperanno evoluzioni di questo tipo di altri paesi poi c'è la peste la peste la grande epidemia di peste la più grande che sia mai manifestata non è l'unica abbiamo già citato altre peste in precedenza poi successivamente c'è la peste raccontata da Manzoni nei Promessi Sposi quindi quella del 600 qua siamo invece nella grande peste del 300 parte come vedete dalla Cina e si diffonde gradualmente verso Occidente in particolare arriva nel Mar Nero a Caifa dove c'è un emporio una base commerciale importante genovese e i mercanti genovesi la portano in Mediterraneo prima si fermano in Sicilia poi la diffondono da Genova verso nord poi anche per altre rotte comunque vedete gradualmente arriva in tutta Europa inarrestabile sappiamo qualcosa oggi stiamo assistendo a una grande epidemia di coronavirus vediamo quanto difficile contrastarla potete immaginarvi cosa succedeva allora quando le nozioni di medicina erano rudimentali o inesistenti per quanto riguarda questi problemi di virologia e di microbiologia nella in questa epidemia si stima che sia morta un terzo della popolazione europea almeno forse addirittura una metà della popolazione europea ovviamente di modo assolutamente democratico di ogni ceto sociale e 100 milioni di morti in tutto il mondo quindi una terribile catastrofe umanitaria a questo punto di vista come vi dicevo si espande gradualmente è inarrestabile qui vedete le linee di avanzamento a date diverse l'arrivo 1347 1348 1349 50 arriva fino in scandinavia insomma è inarrestabile con pochissime aree che meno abitate meno popolate che si sottraggono a questo esempio cosa succede a questo evento cosa succede in queste condizioni ovviamente che vengono a mancare improvvisamente forza lavoro di ogni tipo mano d'opera per le lavorazioni artigianali soldati per le operazioni militari e anche lavoratori di intelletto di altro tipo ad esempio in particolare anzi i copiatori amanueci che eseguivano la produzione a mano di più copie dei libri con tempi come sappiamo molto lunghi a costi molto elevati ecco questa è una situazione di cui che dobbiamo tenere a mente perché poi vedremo a che cosa porterà a un certo punto bene detto questo vediamo cos'altro succedeva in quell'epoca c'era un'altra questione di cui dobbiamo parlare vi ricordate della guerra dei cent'anni però prima di arrivare alla guerra dei cent'anni vediamo come evolvevano prima della guerra appunto le tecniche belliche già alla fine del secolo precedente del duecento in Inghilterra era stata inventata un'arma nuova e per molti versi rivoluzionaria nella sua semplicità l'arco lungo inglese che vedete rappresentato qui veramente lungo un metro e ottanta quindi lungo quanto una persona con notevole prestanza fisica allora gli uomini erano tipicamente più bassi di un metro e ottanta nettamente l'altezza media poteva scagliare frecce da 90 centimetri per poter essere maneggiato però aveva bisogno di notevoli dote fisiche quindi uomini molto forti e anche molto addestrati ben addestrati al suo uso una volta che si mettevano insieme queste cose era in grado di diventare un'arma micidiale perché aveva una portata di duecento e trenta metri come vedete e cosa notevole vantaggio notevole sulla balestra poteva scoscare frecce a ritmi molto sostenuti fino a sei frecce al minuto mentre la balestra difficilmente poteva superare una freccia al minuto vantaggio notevole è che è un'arma molto semplice facile da realizzare in legno di olmo tipicamente facile da utilizzare per tenersi in allenamento e quindi può diventare l'arma di reparti popolari che affiancano i cavalieri che sono invece ovviamente le truppe d'elite dotate di armi più costose di corazze di armi metalli tipicamente così bene ma non è tutto qui perché c'è un'altra tecnologia bellica ancora più di rompente che comincia ad apparire proprio negli anni successivi e sono le armi da fuoco della polvere da sparo vi ho già detto del suo potere deflagrante c'era un'ampia evidenza e anche in Europa per il 1326 c'era chi aveva almeno c'era chi aveva pensato al suo utilizzo per sparare dei proiettili contro degli avversari questa stampa conservata ad Oxford è la più antica documentazione di un tale utilizzo vedete che il cannone è sagommato come una specie di fiasca ma si vede la fiammata che fa partire il proiettile e fa vedere proprio che è stata di un cannone l'innesco avviene con una certa prudenza a distanza portando uno stoppino acceso sul forellino che collega l'esterno con si chiama focone questo forellino con la polvere pressata all'interno in modo da farla innescare è la prima documentazione certa di un'arma da fuoco europea c'è una certa tradizione a raccontare di altri eventi primi nell'uso delle armi da fuoco qualcuno parla di Bertolt Svars in Germania nel 1354 che avrebbe costruito un cannone ma vedete che è successivo poi qualcuno dubita che sia mai esistito questo Bertolt Svars erano due stati diversi tra di loro in continua rivalità visto che avevano la stessa nicchia commerciale da difendere e da sfruttare le navigazioni in Mediterraneo e oltre quindi erano spesso in guerra tra di loro durante la guerra di Chioggia nel 1379 usarono in Italia i primi razzi ma non fu il primo caso di uso di applicazione militare della polvere da sparo come vedete bene fate queste premesse iniziamo a parlare della guerra dei cent'anni guerra dei cent'anni inizia nel 1337 per delle questioni dinastiche tra normanni inglesi e principi francesi per l'eredità al trono francese e vede scontrare appunto gli eserciti dei due dei due paesi dei due regni e che cosa avviene avviene questo interessa a noi che gli inglesi sono i primi a schierare armi nuove l'arco lungo di cui vi ho parlato ma non solo l'arco lungo anche le prime armi da fuoco i primi cannoni che usano ovviamente la polvere da sparo il risultato è che nelle prime battaglie e in particolare le più importanti sono Cressy 1346 Poitiers 1356 Alzincourt 1415 queste armi decretano una superiorità netta inglese e la debolezza quindi delle modalità di portare la guerra tradizionali con armi bianche cavalieri con corazze eccetera che era quella tradizionale francese non c'è solo questo da dire la guerra ovviamente provoca devastazioni diffuse e prolungate sul territorio francese che a un certo punto insieme alle vessazioni dovute alle tasse per mantenere gli eserciti provocheranno delle vere e proprie rivolte popolari e quindi un contesto di arretramento economico e sociale complessivo ma veniamo a riprendere le nostre considerazioni sull'uso delle armi da fuoco 1346 primo impiego certo proprio cresì delle armi da fuoco che affiancano le altre armi in particolare i reparti di arcieri con l'arco lungo sono forse come effetti del tiro dei proiettili sono meno devastanti per adesso ovviamente degli archi ma hanno un effetto psicologico notevolissimo un'arma nuova fa un gran frastuono quando spara e contribuisce a demoralizzare il morale degli avversari rapidamente quei primi cannoni che vedete molto rudimentali sono anche privi di affusto hanno solo dei cavalletti per tenerli insieme evolvono in armi più avanzate come queste che sono chiamati scoppietti poi anche in una versione diversa pertinali che sono di fatto i primi fucili se vogliamo ma possiamo considerarli dei piccoli cannoni portatili maneggevoli rudimentali facili da usare anche questi come l'arco lungo senza neanche richiedere una grande forza fisica in questo caso basta poco addestramento per capire come usarli e trasformarli in un'arma micidiale poco precisi con una portata limitata all'inizio ma comunque possono armare dei reparti senza particolari addestramento e dote fisiche questo era il modo in cui funzionavano vedete che c'è il focone dove va portato il fuoco tramite lo stoppino e chissà se questo riparte sì ecco che riparte la fiamma tramite il focone arriva alla polvere che è ammassata sulla culata il fondo della canna e tappata dalla palla avvolta o premuta da uno stoppino di canapa o di altro materiale tenero e ovviamente così arriva si ottiene lo sparo come capite è un'arma molto rudimentale rispetto a quello che immaginiamo oggi come fucile specialmente nel sistema di innesco e vedremo presto che evoluzioni ci saranno allora come vedete troviamo una situazione di devastazioni di crisi di catastrofi ma anche di bellicosità sostenuta nonostante tutti questi problemi gli europei sono molto contenti di farsi la guerra sono frazionati in molti paesi stati principati diversi in continua conflittura tra di loro al crescere della forza d'impatto dei proiettili di queste armi da fuoco i cannoni emergono come delle armi innovative e vere risorse da superiorità strategica rispetto agli altri in particolare quello che dimostrano è che le vecchie difese delle mura dei castelli molto alte e snelle non riescono a resistere all'impatto dei proiettili sparati dai cannoni e quindi i vecchi sistemi difensivi sono inadatti appunto a contrastare queste nuove armi da fuoco questo parlando di armi da fuoco pesanti di veri e propri cannoni parlando invece di parlando invece di armi leggere come gli schioppetti i pertinali di cui parlavo prima anche questi trovano una diffusione subito maggiore in particolare vengono usate nelle guerre usite si verificano all'interno del sacro romano impero cattolico verso i primi protestanti i primi riformatori della quella che oggi la repubblica ceca e questo è il contesto in cui si benifica tutto questo e qui appunto il comandante delle forze usite ha un iniziale successo contro gli eserzi imperiali perché usa sistematicamente armi da fuoco leggere in particolare in una soluzione anche molto avanzata per l'epoca che è questa mettendole a bordo dei carri protetti e quindi sono se volete questi i primi tentativi di realizzare dei carri armati antelitteram letteralmente e qui vedete l'uso di questi schioppetti con le modalità che vi illustravo prima e a questo punto il ruolo di queste armi da fuoco sia quelle pesanti contro le difese dei castelli sia quelle leggere nelle battaglie campali che vi sto illustrando adesso diventa sempre più determinante le guerre da fuoco gradualmente provocano una vera rivoluzione in campo militare vedremo poi dove si arriverà adesso io tendo a proseguire qua ovviamente come vedete siamo ormai nel 1420 quindi nella seconda fase della guerra dei cent'anni contro la guerra dei cent'anni ma anche altrove gli effetti sono evidenti da quello che vi ho detto torniamo un attimo indietro e vediamo che cosa succede in Italia non che non ci fosse conflittualità in Italia ma c'era anche modo di non si arrivava a questi livelli di devastazione di dedicarsi anche a innovazioni più pacifiche e una notevole veramente è questa nel 1330 Milano una delle più floride città-stato comuni che stanno evolvendo verso la signoria come vedremo presto si dota del primo orologio civico europeo è di tipo sonoro è posto sulla chiesa di San Gottardo in corte che è proprio vicino a Palazzo Reale quindi nel pieno centro di Milano e l'effetto è quello di suonare le ore in modo che siano percepibili da tutta la città quindi una funzione e una soluzione simile a quella dell'orologio civico sonoro di cui vi ho già parlato che era stato installato a Damasco nel mondo arabo nel 1154 siamo in ritardo di quasi 200 anni su quello ma la soluzione è confrontabile che cos'è questo orologio? ovviamente è un dispositivo meccanico molto sofisticato per l'epoca azionato da pesi e l'effetto suo è notevole perché nel mondo europeo in particolare a Milano vedremo che l'idea si diffonde presto scandisce un tempo il trascorrere del tempo a servizio dell'intera società cittadina quindi al fine di regolare non solo le funzioni religiose ma anche le attività produttive artigianali commerciali eccetera è udibile a tutti anche per le esigenze laiche appunto e con questo si afferma un concetto che aveva già fatto Capolino nei secoli passati vi avevamo parlato a proposito di Atene della Torre dei Venti si afferma il concetto dell'ora civica cioè che tutta la città rispetta lo scandire del tempo stabilito da questo orologio che è a servizio dell'intera città è un'ora civica udibile condivisa da tutti i cittadini ed è un'ora che trascorre a ritmi costanti non regolata sui ritmi stagionali come già abbiamo avuto modo di vedere in lezioni precedenti perché così funzionavano quegli orologi meccanici e così sappiamo che funzionano anche oggi gli orologi anche quando non sono più meccanici quindi è un tempo è una concezione del tempo che è diversa da quella invece della campagna del latifondo del contadino che è regolata dal sole a secondo della stagione si inizia a lavorare quando sorge il sole e si va a dormire quando tramonta il sole ok allora questa idea è estremamente feconda e presto evolve in forme più evolute di nuovo rimaniamo in Italia andiamo in un'altra città italiana è proprio a Padova nel 1344 a Padova viene costruito e messo in funzione uno dei primissimi orologi a indicazione visiva ne potete vedere ancora oggi la riproduzione poi vi spiego perché riproduzione se vi recate in piazza dei signori dove c'è la torre dell'orologio eccolo qua ecco in realtà bisogna dire che questo non è l'orologio originale del 1344 perché un incendio vedete ancora una volta i problemi degli incendi lo distrusse nel 1390 e poi fu ricostruito più o meno simile all'originale nel secolo successivo la cosa notevole di questi orologi è che va osservata che all'inizio hanno un'unica lancetta un'unica lancetta quindi un'indicazione visiva chiaramente la lancetta serve a questo la quale con il suo moto rotatorio ovviamente riproduce un po' il moto apparente della volta celeste quindi il passaggio del sole questo era il principio che si voleva riprodurre meccanicamente con l'orologio anche se a ritmi costanti delle ore e perché un'unica lancetta non anche la lancetta dei minuti ovviamente per i problemi di precisione questi orologi erano ancora profondamente imprecisi e non avrebbe avuto alcun senso aggiungere la lancetta dei minuti non era assolutamente percepita questa esigenza anzi erano orologi che regolarmente quotidianamente dovevano essere riportati all'ora esatta in un momento particolare come potrebbe essere ad esempio a mezzogiorno quando il sole raggiungeva lo zenith l'altezza massima in cielo e un po' alla volta tutte le grandi città ricche italiane ma anche vedremo tedesche inglese francese fiamminghe ambiscono ad avere una meraviglia meccanica come questa ambiscono ad dotarsi di un orologio civico è un apparecchio ripeto che per le conoscenze di allora è complicatissimo sofisticatissimo è una vera high tech di allora costa tantissimo quindi avere un orologio così vuol dire essere una città potente e con grandi capacità tecniche ecco che c'è quindi la gara tra le città a chi ha gli orologi migliori a Padova le cose non terminano qui perché il costruttore di questo primo orologio sappiamo chi era si chiamava Jacopo Dondi come vedete la famiglia Dondi era originaria di Chioggia ma lui era un professore all'università di Padova quindi era una figura abbastanza anomala direi di professore universitario con grandi attenzioni interessi nella meccanica d'altronde questi interessi si sposavano qui con l'astronomia perché qui vedete riprodotte anche i segni zodiacali le costellazioni che pure venivano indicati dal meccanismo ma chi fece di meglio fu il suo figlio circa una ventina di anni dopo si chiamava Giovanni Dondi anche lui professore a Padova medico filosofo astronomo ma chiaramente anche ingegnere progettista di meccanismi realizza nel 1364 dopo averci lavorato per parecchi anni questo dispositivo che a prima vista potremmo chiamare orologio in realtà è molto di più il termine tecnico è astrario ed è un meccanismo ancora più sofisticato di quelli di cui parlavamo prima governato da un movimento a bilanciere per regolare la precisione che come vedete ha sette facce non una solo e su ogni faccia è rappresentato il moto di uno dei pianeti noti i pianeti noti in realtà sono cinque ma dobbiamo aggiungersi nella concezione tolemaica con la Terra al centro del cielo e il Sole che ci gira intorno anche appunto il Sole e ovviamente la Luna 16 anni di lavoro per realizzare questa macchina che è straordinariamente sofisticata per l'epoca avanzata è stato detto insuperato per circa quattro secoli talmente avanzato che è difficile che faccia scuola è una meraviglia tale che nessuno è in grado di fare tesoro di queste capacità di dondi e di farle proprie tant'è vero tant'è vero guardate la testimonianza di un cronista dell'epoca che cosa dice vi è oggi in Italia un uomo eccezionalmente versato nella filosofia nella medicina dell'astronomia che per consenso universale è ritenuto la più grande autorità nel campo di queste tre scienze il suo nome è Giovanni Dondi e abita nella città di Padua non solo era un grande scienziato in quelle discipline ma era capace di fare anche queste meraviglie meccaniche pensando a orologi un po' più semplici di questi come erano fatti e come funzionavano gli orologi civici di cui stiamo parlando a cavallo tra 1300 1400 fino a 1500 beh erano delle macchine come ho detto estremamente sofisticate ma come vi dicevo anche estremamente imprecise molto imprecise rispetto ai nostri standard hanno una sola lancetta delle ore e questo lo vedete anche in Lubecca è vi ricordo una città tedesca affacciata sul mare del nord era la capitale della lega ansiatica quindi anche lì una città ricchissima di commerci anche lei ovviamente ambiva ad avere il suo orologio civico nella cattedrale di San Jacoby lo hanno costruito nel XIV secolo quindi siamo nella stessa epoca e vedete che c'è un'unica lancetta anche qua quindi rispetta questi criteri il moto circolare imita l'ombra dell'ognomone come dicevo se volete il moto del sole per ragioni meccaniche le ore hanno sempre durata costante durante tutto l'anno perché l'orologio non si riesce a farlo ovviamente a durata delle ore variabili di conseguenza questi orologi che stabiliscono l'ora civica cittadina a differenza della concezione tradizionale del tempo che aveva origini egizio-babilianesi come sappiamo ha le ore che durano sempre uguali questa concezione innovativa del tempo l'avevo già detto nella lezione precedente lo riprendo anche adesso deriva proprio da un'esigenza meccanica che permette di svincolare la percezione del tempo dagli eventi astronomici che all'inizio avevano fatto introdurre il concetto di ore la tecnica con l'orologio induce una concezione astrata e razionale del tempo che è anche quella moderna che abbiamo oggi e come vi dicevo questi orologi sono l'hitec dell'epoca rappresentano l'orgoglio della tecnica delle città ecco cosa si arrivava a fare qua siamo a Strasburgo Strasburgo grande città dell'Europa centrale di cultura più tedesca a quell'epoca che francese anche se oggi è una città francese che lo sappiamo tra il 1300 e il 74 all'interno della cattedrale del Duomo di Strasburgo viene costruito un grande orologio monumentale a una specie di torre alta 11 metri qua ne vedete una riproduzione poi è andato distrutto e venne ricostruito successivamente oggi di quell'originale orologio torre di Strasburgo rimane solo il gallo che stava qua sopra e che alle ore agitava le ali lo vedete qui è un meccanismo un automa che è alto circa un 80 cm conservato in un museo che sta proprio di fianco alla cattedrale a Strasburgo non è l'unico esempio ovviamente qua siamo a Parigi il palazzo comunale di governo che si chiama Conciergerie e anche lui viene dotato nel 1371 di un suo orologio civico allora bisogna dire che anche questo a un certo punto andò distrutto quindi viene poi ricostruito nel 1585 e quello che si fotografa anche oggi come vedete è appunto la versione del 1585 ma non è finita qui ecco qua siamo a Salisbury siamo quindi in Inghilterra che più o meno negli stessi anni si dotava anche lei del suo orologio meccanico e in questo caso vedete non è una costruzione successiva questo è il più antico che è arrivato fino a noi degli orologi antichi non è il primo che è stato costruito perché come vi ho fatto capire altri erano stati costruiti prima ma poi andarono distrutti questo è il più antico che è arrivato integro fino a noi come vedete è una realizzazione meccanica metallica e non era facile fare grossi pezzi metallici come questi a quell'epoca era costosissimo poi ci torneremo e quello che vedete qui questa specie di ventola è in effetti il bilanciere del meccanismo a bilanciere foglio a dastro avete capito insomma quello di cui vi ho parlato la volta scorsa questo questo è uno dei più splendidi orologi civici di tutta Europa è l'orologio che si trova a Praga chi è andato a Praga a fare il turista l'ha sicuramente potuto ammirare ecco di un'epoca un po' successiva vedete è stato costruito tra il 1410 e il 1490 e anche questo un pochino riprendendo i concetti che vi ho già detto per le costruzioni dei dondi non è semplicemente un orologio come anche quelli di Strasburgo devo dire è frequente a questa soluzione ormai non è solo un orologio che indica le ore ma indica anche eventi astronomici è un orologio cosiddetto astronomico inoltre è dotato di figurini animati che a ore specifiche escono si presentano fanno un piccolo spettacolo un piccolo teatrino sicuramente uno dei più belli anche in questo caso bisogna dire che non è quello originale perché venne appunto rimase distrutto credo per un incendio anche questo a un certo punto e poi venne ricostruito allora siamo negli anni come vedete proprio terribili della peste eppure si fanno queste cose allora che cosa sta succedendo sta succedendo che un calo demografico profondo produce un fa bisogno di manodofera e promuove l'innovazione che va in molte direzioni comprese quelle che abbiamo visto ma ce ne sono anche molte altre in questo contesto si ha un'intensificazione dello sfruttamento delle risorse idrauliche quindi la produzione di energia meccanica visto che mancano muscoli e forza lavoro animale diciamo per via idraulica ed ecco che proprio in questo periodo si vengono codificate tecniche di soluzioni tecniche per la ruota idraulica diversa quella per sotto e quella se volete originale di vitruvio che vedete qui originariamente con un rendimento del 25% però sono macchine che verranno perfezionate nel corso degli anni e dei secoli e nel diciottesimo diciannuesimo secolo chiudo scusa si arriva nell'ottocento si arriverà a raggiungere rendimenti anche del 70% con macchine di questo tipo secondo tipo di macchina la macchina idraulica la ruota idraulica quella per sopra che anche questa abbiamo già incontrato nel IV secolo nell'impero romano vi ricordate Barbegal i mulini in serie in cascata lungo un pendio questa è una macchina che arriverà a un certo punto a raggiungere rendimenti anche più elevati 75-80% perché è in grado di captare completamente il flusso d'acqua e poi verrà introdotta anche una soluzione intermedia la vedete qui la ruota centrale a flusso centrale è un soluzione intermedia come dicevo anche qui con rendimenti iniziali buoni ma che gradualmente diventeranno sempre più elevati se raggiungerà il 75% di rendimento vi faccio notare questi rendimenti saranno utili a un certo punto a quell'epoca non sapevano nulla di rendimento non si era in grado di fare misure energetiche né era noto il concetto di energia ma sono numeri che calcolati successivamente ci saranno utili a un certo punto per fare dei confronti la sostanza è questa con le macchine idrauliche con le ruote idrauliche si è in grado di raggiungere dei rendimenti veramente notevoli per allora ma anche su scala attuale questi sono decisamente ottimi rendimenti per un sistema meccanico bene realizzare tutte queste macchine vuoi i meccanismi vuoi le ruote idrauliche richiede la capacità di lavorare di fare lavorazioni meccaniche innovative ed ecco che appunto le lavorazioni meccaniche in quest'epoca hanno notevole impulso viene reintrodotto il torno il tornio rotativo lo vedete qui rappresentato nelle attività di questi due artigiani questo è azionato a pedale anzi no questo è azionato ad archetto con questo archetto qua chiedo scusa stando seduti mentre questo è azionato a pedale eccolo qui con il ritorno garantito da un elemento elastico che sta qui sopra l'altra mano ovviamente reca l'utensile con cui si esegue la lavorazione al torno vi ricordo che era già noto addirittura agli egizi sicuramente utilizzato dai romani torna in auce adesso da esigenze di tipo produttivo non estetico chiaramente è un periodo in cui emergono oltre alle città italiane anche le città tedesche che hanno una vera vocazione per le lavorazioni meccaniche lo vedremo ci torneremo presto per cui è qui che si afferma la trefilatura meccanica con azionamento vedete la meccanizzazione tramite una ruota idraulica vi ricordo che la trafilatura è il processo con cui si va a passare un filo di metallo che può essere di metalli diversi adesso non occorre neanche precisare quale tramite attraverso dei forellini via via più sottili per ottenere appunto un filo di calibrato di diametro costante in questo caso la fatica del lavoro è sottratta all'attività umana ed è fornita l'energia necessaria da una ruota idraulica che vedete qui tramite un albero a gomiti lo vedete benissimo qui e che fa l'operazione di trazione all'uomo resta solo la fatica di azionare la tenaglia ogni volta che avviene una fase di tiro per poi rilasciarla quando si torna indietro e se ne sta comodamente seduto su questa specie di altalina per essere mosso durante le operazioni dal dal moto della ruota di fatto altra cosa qua siamo in Germania ad Augusta la città sempre della Germania centrale Norimberga che avrà un impulso particolarmente importante uno sviluppo particolarmente importante più o meno negli stessi anni siamo nella sconda metà del 300 inizia la produzione in serie di aghi in ferro anche questa ovviamente è un segno di un'attenzione alla produzione meccanica notevole e indirizzata ovviamente in ambito metallico se torniamo in Italia sempre intorno al 1350 troviamo un'altra dimostrazione di questi avanzamenti meccanici in questo caso torniamo alla meccanica in legno siamo a Bologna e a Bologna intorno al 1350 viene perfezionato il filatoio osserico azionato da ruota idraulica per sotto quindi vedete siamo nel pieno periodo dell'epidemia di peste carenza di manodopera come vi dicevo esigenze di automazione questa è una risposta notevole a questo problema che lo supera e trova delle soluzioni molto avanzate rispetto a quelle che era lo stato dell'arte attuale allora di che cosa si tratta? si gratta di una grande macchina vedete i figurini umani che per confronto danno un'idea di che macchina era che è in grado di avvolgere contemporaneamente il su dei rocchetti il filato in seta ottenuto su appunto tutti questi rocchetti contemporaneamente quindi è stata una macchina molto complessa e avanzata per l'epoca e come sempre succede in questi casi una tecnologia sviluppata e perfezionata a Bologna viene tenuta a segreta perché sia un motivo di vantaggio competitivo sopra i propri concorrenti la lavorazione della seta ormai è arrivata e si è stabilizzata in Europa chiaramente ma specialmente in Italia all'inizio e permette questi avanzamenti tecnici la tecnologia in realtà è arrivata da Lucca che in quegli anni o negli anni precedenti era la più importante città per la produzione della seta in Europa dove una versione più piccola di questa macchina era stata già sviluppata a un certo punto un esule da Lucca che sa come si costruiscono queste macchine arriva a Bologna e ne propone la costruzione a Bologna con una differenza mentre a Lucca veniva fatta funzionare lavorando di braccia quindi con i limiti della potenza sviluppabile dalle braccia di un uomo ed era in grado di gestire un numero limitato di rocchetti e di filati a Bologna veni azionata come vedete scritto qui da una ruota idraulica tra un attimo vi faccio vedere in che modo che cosa si ottiene certo non c'era la disponibilità ampia di forza lavoro per quello che vi ho detto ma la ruota idraulica una volta che inizia a usarla ha un gran vantaggio fa molta più in grado di sviluppare una potenza molto maggiore di quella delle braccia di un uomo e quindi può azionare contemporaneamente molto più rocchetti ed ecco che la macchina assume dimensioni veramente importanti imponenti come vedete si può visitare se vi capita di andare a Bologna la potete vedere anzi la potete vedere anche all'opera vediamo se riesco a fare partire il filmato c'era un filmato forse sì eccolo qua quindi fa una camiana notevole nel suo azionamento vedete quale complicazione di movimenti c'è nella macchina ma l'effetto è veramente notevole una genialità industriale con tutti questi rocchetti ne vedete alcuni qui sotto che vengono filati contemporaneamente vengono volti contemporaneamente bene andiamo avanti passando partita all'esposto andiamo avanti ecco qual era l'assetto di questi stabilimenti stabilimenti per la filatura della seta c'erano sia installazioni in abitazioni private ma anche c'erano edifici apposta realizzati apposta per alloggiare queste macchine quindi vere e proprie fabbriche le prime fabbriche in questo caso vedete la ruota idraulica che sta sotto nello scantinato perché è Venezia Bologna è ricca di corsi d'acqua con cui si potevano azionare contemporaneamente tante di queste ruote in posizioni diverse della città dopodiché la la ruota azionava i filatoi che stavano qua sopra qua di giù ne vedete uno due tre e qua c'è anche un'altra macchina che a un certo punto verrà copiata al filatoio si chiama incarnatoio e serve a facilitare e a automatizzare ancora di più le lavorazioni come vedete è un'organizzazione veramente di fabbrica su grande scala allora per il 1450 sono passato circa un secolo i bolognesi sviluppano e perfezionano sempre di più questa tecnologia aggiungono appunto l'incannatoio per la predisposizione delle matasse e raggiungono grazie a questi segreti tecnologici una posizione di vero monopolio europeo sono i migliori produttori più abili produttori di tessuti di filato di seta di tessuti di seta in Europa struttura è organizzata sia in fabbrica che domenica botteghe a domicilio come vi ho detto e su una popolazione di 60.000 abitanti pensate ben 24.000 persone sono quasi la metà della popolazione è dedita alla lavorazione della seta queste macchine vengono tenute a lungo segrete ma ovviamente i segreti a un certo punto cadono quindi le informazioni si diffondono ed ecco che nel XV secolo comincia a apparire macchine di questo tipo in altre aree delle miglie ed anche in Trentino nel XVII secolo mentre a Bologna ci sono 116 settifici che muovono in cui operano 353 ruote idrauliche quindi di nuovo la dimensione industriale della produzione bolognese la tecnica in realtà è già diffusa anche in altre regioni arrivate in Veneto in Lombardia vi ricordo che il XVII secolo è quello dei promessi sposi di Manzoni e in effetti parla dei setifici lombardi il libro di Manzoni poi anche in Piemonte e in Friuli nel XVIII secolo un secolo dopo un signore inglese viene a lavorare nelle fabbriche piemontesi della seta come operaio semplice ma in realtà è una persona molto acuta attento osservatore evidentemente non ha nemmeno molti scrupoli a rispettare i segreti di fabbrica dove lavora quindi alla sera copia gli schemi di questi di questi di questi meccanismi raffinati e quando ha il disegno completo di tutta la macchina torna in Inghilterra e installa lì contrabbandali l'intera tecnologia lo vedremo più avanti questo diventa a quel punto uno dei primi passi della rivoluzione industriale inglese ripeto è un esempio di appropriazione in debita di tecnologia italiana torniamo in Italia al 1300 abbiamo parlato di varie tecniche tecnologie meccaniche ma ci sono anche altre tecniche che si affermano in questo stesso periodo e sono quelle contabili per sostenere l'espansione dei commerci è necessario disporre di modalità di conteggio e di contabilizzazione avanzate e proprio intorno al 1340 a Genova viene introdotta viene concepita si comincia ad usare la cosiddetta contabilità partita doppia è la tecnica contabile che tuttora viene utilizzata in tutte le aziende in giro per il mondo uno strumento di controllo formidabile dei flussi finanziari e dei flussi economici anche già un secolo dopo viene scritto da un italiano che in realtà abita a Ragusa Ragusa è l'attuale Dubrovnici quindi oggi la concepiamo come città croata ma allora era di cultura italiana questo mercante scrive un trattato che codifica le modalità di utilizzo di questa tecnica che poi verrà gradualmente esportata prima invidiata nelle altre città del nord Europa e poi gradualmente esportata ed acquisita anche lì nel 1343 sempre a Genova vengono introdotti i primi contratti di assicurazione autonomi a che cosa servono allora lì come abbiamo bene in mente i grandi commerci di Genova come anche di Venezia delle altre repubbliche marinare venivano via mare ma il trasporto di una missione commerciale di una nave carica di beni da commerciale era sempre un'operazione molto rischiosa se tutto andava bene bastava un solo viaggio di una nave per diventare ricchi sfondati per il resto della propria vita ma se andava male si era rovinati e poteva andare male perché c'erano i pirati c'erano le intemperie c'era il rischio di naufragio e così via allora affrontare un viaggio per nave con una nave mercantile era un'operazione molto rischiosa l'introduzione dei contratti di assicurazione pur essendo oneroso ovviamente limitava gli effetti il rischio e rendeva molto più allettante queste operazioni commerciali inoltre negli stessi anni vengono introdotti altri strumenti contabili come le cambiali moderne con le girate che facevano sì che non occorreva viaggiare con la borsa piena di soldi da Venezia ad esempio da Genova fino a Londra perché bastava una cambiale firmata e questa serviva per dire chi arriva con questa cambiale ha diritto di avere i soldi e il banchiere italiano in loco ovviamente forniva il denaro il principio fondamentalmente è questo di nuovo sottraendo il flusso finanziario ai rischi di brigantaggio e altri rischi che potrebbero essere lungo il viaggio e tutti questi strumenti messi insieme danno un grande impulso ai commerci e in particolare a chi ne beneficia per quello che vi sto dicendo sono prima di tutto le città italiane dove questi strumenti contabili nel 300 vengono messi vengono realizzati tra le tante città che si dotano e che beneficiano di questo grande boom economico c'è Firenze con importanti imprese finanziarie istituzioni di banche moderne capitali di ventura le persone che si sono arricchite immensamente dalle produzioni artigiane e in particolare dai commerci possono decidere di continuare a fare i mercanti oppure possono decidere di prestare a interesse a usura i soldi che hanno accumulato e diventano quindi gradualmente anche banchieri quindi all'inizio sono mercanti banchieri e poi in realtà diventano effettivamente banchieri banche vere e proprie e questo è lo sviluppo delle grandi casate dell'aristocrazia cittadina perché appunto diventeranno anche questi in queste grandi città come i Bardi Dantini Pazzi i Peruzzi gli stessi medici hanno avuto questa evoluzione una famiglia importantissima a un certo punto della storia italiana ma la stessa cosa succede in altre città qua cito a Genova i Lomellini e gli Spinola a Padova ci sono gli Eremitani e così via e tanti altri sono talmente ricchi e potenti finanziariamente da diventare da essere capaci di finanziare gli stessi regni d'Europa il re di Francia il re di Spagna l'imperatore il re d'Inghilterra è lo stesso Papato ovviamente possono succedere anche cose disastrose da un punto di vista finanziario ma questo è un altro discorso lo vediamo in un altro momento magari e sempre nello spirito dello sviluppo di questi strumenti finanziari a Genova viene istituita a un certo punto la prima banca pubblica la casa di San Giorgio prima casa banca di deposito statale i precedenti erano banche private erano singole famiglie che diventavano banchieri qua adesso invece è un'istituzione dell'intera città allora quali sono le implicazioni di queste evoluzioni economico finanziarie sono che vengono messi a disposizione una cosa che avviene anzitutto in Italia ma poi si verifica anche in altre regioni europee come le Fiandre un'altra ricchissima regione l'attuale Belgio e Paesi Bassi per essere chiari la Germania e così via avviene che avviene che i capitali che vengono raccolti in questo modo e che diventano strumento oggetto di prestito da parti delle banche a chi vengono prestati vengono prestati tipicamente a parte i monarchi come ho detto poco fa a altri artigiani che sono ansiosi di sviluppare i loro affari dotandosi di macchinari che permettono una produzione molto più corposa e sofisticata come abbiamo visto nel caso di Bologna poco fa e quindi hanno un ruolo strategico in questo senso ovviamente quei macchinari costano un sacco di soldi sono macchine costosissime quindi solo con capitali a prestito si riescono ad acquisire per sopperire tra l'altro la carenza di manodopera per potenziare le proprie capacità produttive e in questo modo di fatto iniziano a comparire lo ripeto prima di tutto in Italia imprese finanziate dal capitale di terzi e organizzate dotate di macchine complesse e molto costose in altre parole queste persone sono i primi proto-capitalisti a tutti gli effetti i primi artigiani che acquisiscono che fanno proprio questa trasformazione sono dei proto-industriali proto-imprenditori sono coloro che hanno la capacità di investire e di innovare ma ovviamente ci sono anche gli altri artigiani che non hanno la capacità o il coraggio di fare questi passi e gradualmente ovviamente vengono emarginati nella competizione produttiva rispetto ai primi e finiranno per ridursi al ruolo di proto-salariati proto-proletari che lavorano per gli imprenditori proto-industriali di cui dicevo prima e in questo contesto poi ci saranno anche delle rivolte vabbè insomma eventi evoluzioni sociali anzi li vediamo subito qua perché già nella seconda metà del 300 ma anche me ne indico già una nelle fiandre come vedete la rivolta proprio rustico-artigiana nel 1323 e 1328 ma poi queste si intensificano successivamente avvengono tutta una serie di rivolte che che infiammano lo scontro sociale antelitteram perché scontro sociale poi si parla ampiamente nell'800 già in questa epoca come dicevo 1358 la Giacquerie in realtà si inquadra nel contesto della guerra dei Settanni 1351 1378 a Firenze la rivolta dei cioppi che sono proprio i salariati dell'arte della lana gli operai che lavorano per i capitalisti per gli imprenditori della produzione laniera poi si stende a Perugia Siena non Siena Siena mi spiace l'errore lo metteremo a posto e altre rivolte analoghe a queste quindi in un contesto sociale che è molto turbolento si scatenano anche in altri parti nel 1381 c'è la predicazione di John Paul con la rivolta guidata da Watt Tyler in Inghilterra e poi altre rivolte in Galizia in Catalonia in Scandinavia un po' dappertutto come avete un anno è un secolo veramente turbolento venendo a guardare cosa succede in giro per l'Europa non a livelli di questa conflittualità ma in un ambito più tecnico allora nel 1373 in Olanda vi ho detto poco fa che era una regione in grande sviluppo economico viene realizzata la prima conca di navigazione europea io ho già parlato delle conche di navigazione a proposito della Cina la prima realizzata nel 984 quei sistemi che permettono il passaggio dei battelli delle navi delle chiatri tra due tratti di canale che hanno quota idrometrica diversa e questa realizzazione arriva in questo momento anche in Olanda ovviamente come sapete è una regione ricca d'acqua e di vie d'acqua adibite al trasporto quindi un'importanza dal punto di vista dei commerci sicuramente notevole passiamo a Norimberga dove le attività artigianali e produttive crescono notevolmente è anche un punto di incrocio un crocevia di commerci trovandosi al centro dell'Europa tra Europa settentrionale e Europa meridionale quindi una città estremamente dinamica da un punto di vista appunto commerciale ma anche culturale in effetti qui si sviluppa proprio una delle dei grandi poli di produzione cartaria europei anzi a importare la lavorazione della carta a Norimberga sono proprio degli artigiani italiani che si insediano si trasferiscono a Norimberga allettati dalle possibilità di guadagno e di sviluppare i loro lavori che promette la città e qui importando queste tecniche introducendo dei miglioramenti fanno sì che gradualmente Norimberga diventa la più importante città europea nella produzione della carta subentrando a Fabriano altri aspetti tecnologici di tipo diverso sono quelli nella metallurgia nel 1400 delle evoluzioni che già abbiamo visto solo in forma localizzata in alcuni punti d'Europa si diffondono si comincia a usare sistematicamente il carbone fossile in siderurgia diventando permettendo così di ottenere temperature più elevate quindi la fusione completa del ferro come vi ricordo in realtà il prodotto però è un ferro contaminato da un contenuto troppo elevato di carbonio ovvero ghisa quindi si produce sì ferro da colata ma in realtà non è ferro ma è ghisa non è nemmeno acciaio e di fatto è un prodotto di qualità meccanica modesta rispetto al ferro di elevata qualità o agli acciai non adatto a fare armi utensili su questo poi torneremo nella metà del 300 avviene un altro fatto culturale importantissimo che è il fiorire del rinascimento in Italia all'inizio e poi questa evoluzione culturale andrà a contagiare l'Europa centrale estentrionale gradualmente che nasce da un rinnovato interesse per le conoscenze la cultura classica dei greci e dei latini diventano accessibili per varie vie i testi originali degli autori classici si sviluppa una vera passione per leggere questi libri per fare propria quell'antica cultura per recuperare i loro messaggi anche le concezioni aristoteliche bisogna avere in tutto questo che entrano nelle università distaccandole sempre di più da quel sapere pratico che persone come i Dondi avevano cercato di introdurre e che puntano e con questo avviene anche un recupero delle modalità educative delle vie educative che erano proprie dell'antichità per cui si cominciano a insegnare sistematicamente quelle che erano le discipline codificate da Zenone vi ricordate ne abbiamo parlato la grammatica la dialettica la retorica e poi quelle del quadrivio di Archita da Taranto l'aritmetica la geometria la musica l'astronomia diventano argomenti tipici di insegnamento universitario ovviamente non si dimentica di insegnare il diritto che ha un interesse pratico concreto e la medicina e tutto questo però avviene in una concezione come vedete scrivo qui esoterica e sacerdotale del sapere lontana dalle applicazioni pratiche e c'è un passaggio di un libro famosissimo scritto nel 1543 da Vesaglio che stigmatizza questo fatto a quel tempo scrive Vesaglio e prima di tutto in Italia come vedete i dottori alla moda imitando gli antichi romani cominciarono a disprezzare l'opera della mano esattamente il concetto che vi ho espresso ripetutamente questo periodo i comuni che erano fioriti come vi ho descritto in ambito tecnico economico produttivo gradualmente subiscono un'evoluzione politica che li porta a trasformarsi in signorie in altre parole si afferma un'aristocrazia mercantile prima di tutto nelle città-stato pensate ad esempio ai medici a Venezia scusate a Firenze ma anche nelle altre città come avvengono passaggi analoghi a questo non sono in grado le città italiane di federarsi in un unico stato nazionale sono infiammate da una conflittualità permanente però sono comunque uno sedi di uno straordinario sviluppo culturale oltre che economico sappiamo bene cosa vuol dire il rinascimento nel mondo delle signorie italiane pensate appunto alla Firenze dell'epoca dei medici con delle forme di interessi culturali che diventano rapidamente contagiose si ritrovano nelle grandi città italiane prima ma gradualmente si diffondono anche nelle città di cultura tedesca e qua ti muovo vedete vi indico Norimberga Augusta di cui ho già parlato Strasburgo di cui ho già parlato ma anche altre città come Magonza Dresda anche Praga Praga oggi la immaginiamo nella Repubblica Ceca ma a quell'epoca era una città di cultura fondamentalmente tedesca e la stessa Danzica che oggi sta in Polonia era una città fondamentalmente allora di cultura tedesca e in altre regioni oltre al rinascimento in senso artistico letterario che abbiamo bene in mente va considerata il fiorire in questo periodo di un rinascimento di tipo tecnico rinascimento delle tecniche vi scrivo qui in cui c'è un rinnovato interesse anche per le realizzazioni tecniche per la tecnologia anche se tutto questo avviene lo ribadisco al di fuori delle università e in particolare nelle botteghe dove queste discipline vengono coltivate quindi sia l'arte pensate alla pittura alla scultura che la tecnica trovano i loro ambienti in cui fioriscono nelle botteghe artigiane diventano questi veri laboratori di formazione di artisti ma anche di ingegneri di tecnici che si occupano di costruzione di macchine è significativo a questo proposito l'idea di Lorenzo il Magnifico quindi Lorenzo dei Medici a Firenze di organizzare istituire l'orto di San Marco chiedo scusa dove i migliori talenti scientifico artistico tecnici chiedo scusa vengono raccolti dalle botteghe per appunto sviluppare le loro capacità in modo collegiale queste sono di fatto le scuole del sapere tecnico di allora che si diffonde rapidamente come vedremo presto anche grazie alla produzione dei trattati tecnici a stampa perché sono gli anni in cui si arriva alla stampa a carattere immobile che ha un ruolo importantissimo in quello che vi devo raccontare ancora quindi è una nuova forma di cultura materiale questa che sta emergendo che ha i loro ripeto le sue cattedrali nelle botteghe artigiane prima di tutto non nelle università si afferma in questo periodo anche l'uso del meccanismo di biella e manovella andando su cose più meramente tecniche sappiamo bene di cosa si tratta è un meccanismo che trasforma il moto rotatorio in moto alternativo e presto si otterrà anche l'opposto la trasformazione del moto alternativo in moto rotatorio però per fare questo è indispensabile che ci sia il volano e vedremo chi introduce questa innovazione ricordo che non è un meccanismo nuovo era già stato utilizzato a più riprese in epoca passata ma a questo punto comincia ad affermarsi in particolare in Italia anche in Francia come vedete questa documentazione è francese del 1428 e addirittura poi viene usato anche da Filippo Brunelleschi come vedremo presto quello è il movimento rotatorio trasformato in movimento alternato ecco nel 1414 avviene un fatto notevole avviene che un umanista una persona appassionata delle opere degli antichi questo vuol dire Poggio Bracciolini era un fiorentino che faceva l'ambasciatore per il papa andandone in giro andandosene in giro per l'Europa ritrova casualmente in un monastero credo che fosse in Austria ma da quelle parti lì una copia del trattato di Vitruvio che conosciamo bene il De Architettura sembrava essere stato dimenticato in realtà in qualche altro monastero si sapeva che questo libro era disponibile ma non aveva scatenato particolari interessi invece adesso fa proprio questo nel mondo del rinascimento italiano scatena un'ondata di entusiasmi tecnici si riscopre lo stile e la tecnica dei romani in tutti i sensi la statuaria per la fusione c'era perduta l'architettura e tutte le tecniche ingegneristiche anche e questo ritrovato trattato di Vitruvio finisce per avere un'enorme influenza sui gusti architettonici europei un grande architetto italiano umanista e architetto Leon Battista Alberti negli anni successivi scriverà una sua opera il De Re Edificatoria a questo punto si tratta davvero di un trattato di architettura dove si fa ampiamente riferimento all'opera di Vitruvio e quindi anche lui contribuisce a questa evoluzione a questo fenomeno di rinascimento tecnologico tipico di quest'epoca parlato prima di Filippo Brunelleschi e vale la pena di tornare su di lui per ricordare di che cosa che uomo era era un tecnico sicuramente ma aveva anche una formazione culturale superiore grazie alla sua estrazione familiare era un architetto uno scultore un orefice un orologiaio ma come vedete anche un matematico e un geometra un esperto di geometria vuol dire geometra ovviamente allora mettendo insieme questi suoi interessi queste sue conoscenze nel 1416 è il primo a codificare una tecnica rappresentativa che è la prospettiva inventa la prospettiva prospettiva che sapete bene vedete una esemplificazione molto importante qui in quest'opera di Pietro della Francesca Piero della Francesca del 1472 che permette di rappresentare sul piano di disegno quindi nelle due dimensioni oggetti e ambienti che hanno sviluppo tridimensionale una tecnica di visualizzazione delle tre dimensioni ripeto lui è l'iniziatore ma poi lo stesso Leon Battista Alberti di cui vi ho parlato prima e lo stesso Piero della Francesca di cui vedete questo famoso quadro lo svilupperanno e perfezieranno la tecnica della prospettiva e quindi della rappresentazione sul piano delle tre dimensioni avrà un'importanza fenomenale in ambito artistico ma non ricordiamo non dimentichiamolo anche in ambito tecnico perché permette di superare i limiti rappresentativi di tutte le immagini tecniche che vi ho fatto vedere prima di Lardio Mencourt Guido da Vigevano e così via e quindi darà una potenzialità rappresentativa in campo tecnico senza precedenti Filippo Brunelleschi dunque Filippo Brunelleschi è molto di più di quello che vi ho detto si occupa anche di meccanica tecnica edilizia anzi è il primo che introduce sistematicamente l'uso della grande meccanica in campo edilizio con soluzioni innovative con speculazioni razionali quindi non più una tecnica puramente affidata al trial and error come dicevamo qualche lezione fa ma in cui la progettazione ha un ruolo completamente nuovo con l'utilizzo anche di grandi macchine dicevo prima questo è un esempio di una delle grandi macchine di Brunelleschi usate nelle sue realizzazioni architettoniche e di fatto è la persona che rivoluziona il ruolo del progettista dell'architetto progettista inventa la funzione che qualcuno ha chiamato la tecnica del tecnico questa è un'altra rappresentazione un modellino di una delle grandi macchine utilizzate da Brunelleschi in campo edile vedete bene i buoi che ci sono qui sotto vi danno un'idea di che dimensioni di macchine progettava questo uomo e queste sono rappresentazioni dell'epoca di giovani artisti e tecnici fiorentini che andavano a vedere ammirati le macchine che realizzava appunto Brunelleschi questi sono i disegni delle macchine che vedevamo prima la gru il meccanismo mosso dagli animali dov'è che metteva in pratica il beh in particolare uno di questi disegni è di Leonardo gli altri sono di Taccola che è un un ingegnere di età intermedia tra Brunelleschi e Leonardo dov'è che venivano utilizzate queste macchine venivano utilizzate nella realizzazione di grandi edifici anche tali che non ce n'erano stati precedenti prima e la realizzazione più impressionante di Brunelleschi in questo senso si trova proprio nella cattedrale di Santa Maria del Fiore la cattedrale di Firenze questa enorme chiesa voluta dai fiorentini per dimostrare la loro potenza e la loro ricchezza per essere la più grande per lo meno della Toscana ma non solo della Toscana perenne conflittualità con altre città come Siena come Pisa e i fiorentini allora era stata iniziata stavo dicendo all'inizio del 300 su di un progetto di un architetto famoso che si chiama Arnolfo di Cambio doveva conglobare anche una grande cupola a imitazione della grande cupola del Panteon che quegli architetti andando a Roma potevano ammirare appunto nella città eterna però arrivati a realizzare tutto il resto della chiesa la cupola rimaneva da fare ancora all'inizio del 1400 perché nessuno capiva come si sarebbe potuta edificare una cupola simile a quella del Panteon ma che fosse capace anche di rimanere in piedi teniamo conto che il Panteon era realizzato in calcestruzzo e la tecnica di produzione del calcestruzzo era andata dimenticata si usavano mattoni e malte a quell'epoca la soluzione la trovò appunto Filippo Brunelleschi la grande cupola di Santa Maria del Fiori è la cupola di Brunelleschi notate le dimensioni 45 metri di diametro e arriva a un'altezza di 91 metri con un peso complessivo di 37.000 tonnellate e realizzata lo ribadisco in mattoni e malte è dotata di questi costoloni che sono la struttura di rinforzo e gli spazi tra i costoloni sono riempiti da struttura a mattoni costruiti a spina di pesce in modo da autosostenersi man mano che veniva realizzata la cupola la cosa notevolissima non è solo il fatto che la cupola che Brunelleschi sia riuscita in questa impresa straordinaria rimane tuttora la cupola in mattoni più grande che sia mai stata costruita ma è il fatto anche che ha realizzato l'intera cupola senza fare uso di strutture in legno fisse che si elevassero da terra senza le impalcature che erano l'elemento tradizionale indispensabile in costruzioni di questo tipo le uniche impalcature leggere che si usavano che lui usò furono delle strutture molto leggere che venivano agganciate alla cupola stessa man mano che veniva edificata e qui veramente c'è il genio formidabile di Brunelleschi che è riuscito in questo risultato formidabile tenete conto avevamo già visto a suo tempo che il Pantheon era stato costruito 1300 anni prima e nessuno aveva mai osato fare cupole di queste dimensioni fino ad allora Agia Sofia la Santa Sapienza di Costantinopoli si fermava era più piccola di 10 metri nel diametro era pure in Latterizi ma nettamente più piccola di questa quindi gli italiani stanno dando prova di capacità edilizie fenomenali in questa epoca ma anche le abilità in ingegneria idraulica sono all'avanguardia in Italia nel 1438 viene costruita la prima conca di navigazione italiana si trova sul naviglio a Milano permette la navigazione tra i canali che vengono usati per la movimentazione di vari tipi di merci compreso per la costruzione del duomo quindi blocchi di pietra per costruire il duomo di Milano ovviamente ed è il segno di un'attenzione ai problemi di ingegneria idraulica che hanno degli sviluppi notevolissimi in Italia in questa epoca fanno sì che gli ingegneri idraulici italiani siano considerati i migliori di tutta Europa ma anche le lavorazioni metalliche sofisticate sono all'avanguardia in Italia in particolare città che hanno una notevolissima vocazione in questo senso sono quelle lombarde Milano e Brescia anzitutto Milano è la maggiore produttrice mondiale di manufatti in acciaio dove vengono realizzate armature come quelle che vedete bellissime costosissime costano uno sproposito se le possono permettere solo i grandi principi re europei e quella che vedete in effetti è l'armatura che nei primi anni del Cinquecento viene costruita per Enrico VIII re d'Inghilterra famoso re d'Inghilterra lavorato alla forgia non certo per colata di ghisa è proprio acciaio questo altre cose che si fanno in acciaio in questa epoca stavolta però ci trasferiamo nelle fiandre in particolare Ammons sono grandi cannoni come questo come vedete a questo punto la capacità di costruire armi da fuoco ha fatto veramente passi da gigante questo è un grandissimo cannone con un calibro di 510 mm vuol dire che queste palle che sono i suoi proiettili hanno un diametro di 51 cm vi dà un'idea delle dimensioni e questa è lavorato in acciaio come si fa a lavorare in acciaio una cosa così grande ovviamente non è una cosa banale è una lavorazione anzitutto costosissima ma si parte da barre assiali e anelli trasversali di cui si vedono le tracce che vengono prodotti a parte poi assemblati assieme e forgiando poi tutto il blocco così ottenuto in modo da ottenere un pezzo unico con costi di modalità lavorative complicate onerosissime costi di produzione anche altrettanto elevati questo cannone viene a un certo punto donato siamo cospito Francia in realtà è più giusto dire nelle fiandre come avete capito viene a un certo punto donato al re di Scozia e si trova ancora in Scozia anche adesso ovviamente il ferro col ferro da fusione con la Ghisa si può provare a lavorare molto più in fretta un'arma da fuoco però scusate abbiamo sbagliato passaggio eccolo qui in effetti in Francia si tenta questa strada proprio in questo periodo alla Perche in particolare la produzione di cannoni in ferro agitata quindi in Ghisa però i risultati sono scadenti perché la fragilità intrinseca della Ghisa il risultato che si poteva ottenere era questo che il cannone a un certo punto esplodesse quando si sparava il colpo se la carica di polvere era un troppo era troppa per cui bisognerò trovare a un certo punto tecniche di lavorazione diverse ad esempio un metodo per superare queste difficoltà poteva essere quello fu quello di partire da una lamina in acciaio e avvolgere la lamina un pochino come si fa nell'arrotolare le sigarette e poi saldare la spirale la lamina spiralata così ottenuta con altri miglioramenti a un certo punto verrà introdotta anche la canna rigata tutti i sviluppi successivi che hanno luogo nel corso dei secoli successivi nel frattempo per fare grandi cannoni in alternativa all'uso dell'acciaio si poteva usare il bronzo che aveva ancora un utilizzo notevole anzi per molti anni i migliori cannoni saranno fatti ancora in bronzo e quello che vedete rappresentato qui è del 1586 ma si tratta proprio di un grande cannone in bronzo siamo in Russia in questo caso come vedete queste tecniche si diffondevano in tutta Europa e questo è il cannone con il più grande calibro mai realizzato le sue palle che vedete qui lo si vede anche con la proporzione con la persona hanno un diametro di 890 mm 89 cm in realtà non venne mai usato aveva fini dimostrativi sia impressionare i visitatori con le capacità metallurgiche raggiunte in Russia sia nello scoraggiare eventuali aggressori era posizionato all'ingresso delle mura difensive del Cremlino dove tuttora si trova ovviamente l'uso più normale del bronzo era l'uso nella statuaria che trovava impiego ad esempio nelle mani degli artisti italiani come Cellini e così via pensando alle armi più leggere ecco qui una nuova arma l'archibugio l'archibugio è l'evoluzione di quei pertinali che vedevamo prima un'arma già più sofisticata all'inizio veniva acceso la polvere ancora con uno stoppino infiammato solo che invece di essere tenuto in mano libera dall'archibugere a un certo punto venne introdotto un vero e proprio grilletto con il cane nel quale lo stoppino acceso veniva bloccato come funzionava l'arma allora allo scoccare del grilletto la fiamma dello stoppino dava in contatto con la polvere messa in questo scodellino qui c'è il forellino passante che entra nella canna il focone e attraverso il forellino la fiamma arriva ad accendere la polvere nella culata dell'arma dove ovviamente la polvere è compressa come già abbiamo visto dalla pallottola avvolta o premuta dallo stoppino e così avviene lo sparo ovviamente poi bisogna ricaricare e così via siccome queste armi erano piuttosto pesanti erano sì dei cannoncini portatili ma avevano il loro peso generalmente vengono utilizzate con un'apposita stampella ovviamente questa è ancora una tecnica di innesco rudimentale gradualmente nel tempo vengono introdotte modalità di innesco più raffinate tecniche di innesco meccanismi di innesco più raffinati ma tutto questo ci fa vedere una cosa notevole l'affermazione delle armi da fuoco implica necessariamente un utilizzo sempre più massiccio dei metalli le armi diventano sempre più metalliche necessariamente ma non è solo questo si diffondono anche di conseguenza l'uso anche di strumenti metallici che sono più precisi degli strumenti in legno quindi c'è una meccanica dei metalli che sta emergendo per diverse ragioni e un territorio elettivo per queste costruzioni per queste realizzazioni sono proprio le città della Germania e in modo specifico Norimberga nella costruzione degli strumenti eccellono due tipi di categorie a Norimberga gli artigiani e gli scienziati curiosamente sono due categorie professionali diverse che arrivano alla produzione di questi oggetti analoghi per strade diverse ma che fanno sì che effettivamente Norimberga raggiunga un vero primato in campo europeo in questo tipo di costruzioni nella meccanica di precisione possiamo dire no? Da un certo punto sarà proprio Norimberga che si inizieranno a stampare sistematicamente testi scientifici e tecnici ovviamente quando la tecnica per farlo diventa disponibile ma questo lo vedremo più avanti non è un caso quindi che proprio intorno al 1440 a Norimberga verga costruito il primo orologio per quanto ne sappiamo lì il primo orologio rimpicciolito rispetto a quelli che abbiamo visto fino ad ora non dico ancora miniaturizzato parleremo di questo termine più avanti azionato da una molla questo dettaglio di un quadro che vi presento qui in bianco e nero è una rappresenzazione di un tale orologio con azionamento a molla che tipo di molla è questo? non ci sono più i pesi anzitutto come nei grandi orologi da civici quelli che vi ho fatto vedere in precedenza quelli piazzati nei grandi edifici pubblici ma tutto è rimpicciolito e i pesi come motore del meccanismo sono sostituiti da una molla che deve essere caricata o deformata fino a caricarla appunto le prime molle sono a coda di maiale ovvero hanno sezione circolare e sono realizzate in acciaio abbiamo visto che le tecniche di produzione dell'acciaio erano ormai codificate specialmente in quelle città ma si tratta in ogni caso di oggetti estremamente costosi difficili da realizzare completamente realizzati a mano pezzo dopo pezzo quindi solo persone estremamente facoltose possono permetterlo l'orologio a molla ha un problema man mano che rilascia la propria energia la molla ovvero che torna nella posizione di riposo la deformazione la forza di deformazione si riduce e quindi perde si riduce anche la coppia che aziona l'orologio e questo rallenta nel suo movimento quindi bisogna inventarsi un qualcosa che ovvi a questo difetto e effettivamente non molti anni dopo nel 1477 la soluzione viene trovata nel conoide si tratta di un tedesco Paolo Salemanus dice chiaramente il nome da dove veniva ma in realtà è un religioso che si è trasferito a lavorare a Roma presso il Papa vedete qui il meccanismo la soluzione è abbastanza banale se ci pensiamo si fa sì che la la trazione venga applicata tramite una catena come vedete in questo caso su di un supporto che ha forma conica per cui man mano che la molla si rilascia e quindi la coppia si riduce la tensione si riduce anche sulla catena ma il braccio di coppia aumenta e quindi alla fine la coppia rimane costante soluzione geniale come vedete ogni tecnologia che si introduce questo è tipico l'abbiamo visto anche con le armi da fuoco solleva un problema nuovo e nuova tecnologia supera quel problema poi probabilmente ne apre un altro di nuovo ed è tutta una catena è tipico ma credo questo ormai sia chiaro del processo evolutivo della tecnologia ovviamente questi orologi aprono una nuova prospettiva alla misura del tempo disporre di una misura del tempo domestica individuale un'esigenza prima non sentita ovviamente la fornitura dei metalli richiesti da tutte queste nuove lavorazioni pone nuove esigenze richieste alle attività minerarie dove trova impiego anche qui l'uso della ruota idraulica bisogna tenere conto che gradualmente le miniere diventano sempre più profonde e quindi diventa sempre più difficile seguire lo sviluppo delle vene di minerali metalliferi per la loro estrazione si scavano cunicoli sempre più profondi ma si presentano due problemi in particolare in Europa centrale si manifesta prima di tutto questo problema proprio in Germania e in quei territori di togliere l'acqua che tende ad allagare i cunicoli altrimenti ovviamente non si può lavorare e una volta estratto il minerale dall'avena di sollevarlo e portarlo in superficie in entrambe queste operazioni trova in piego la ruota idraulica con soluzioni nuove che vedremo ma la ruota idraulica trova in piego anche nelle fucine dove i metalli poi vengono lavorati sia nell'azionamento dei mantici che servono a insufflare aria e sollevare quindi elevare la temperatura del forno per portare a fusione i metalli sia nell'azionamento di magli questo l'abbiamo già visto insomma la ruota idraulica tende a diffondersi nei settori più vari e anche più innovativi delle lavorazioni detto questo è arrivato il momento di fare un'escursione negli altri territori extraeuropei vediamo che cosa sta succedendo prima di tutto in Cina nel 1368 si afferma una nuova dinastia tutta la storia cinese come vedete è fatta di susseguirsi di dinastie come è successo in un ambito un po' più ristretto in Egitto ma qui su scale dei tempi in Cina più lunghi dove si alternano periodi appunto con le diverse con il susseguirsi delle dinastie di espansione economica culturale e di contrazione di riflusso di decadenza nel 1500 sotto i Ming Pechino arriva ad essere la città più popolosa del mondo ancora una volta quella dei Ming è una dinastia di grande fioritura in cui avvengono tutta una serie di altri eventi come la realizzazione di enormi velieri dotati di compartimenti stagni grande attenzione e quindi capacità di navigazione ecco vedete qui in questa figura di che cosa sto parlando il veliero piccolino che c'è davanti è una delle caravelle di Colombo quella che vedete dietro è la sagoma in scala di questi grandi velieri che i cinesi erano in grado di costruire in quest'epoca non erano impressionanti solo per le dimensioni vedete che sono dotati di un'alberatura imponente sono nove alberi addirittura anche di compartimenti stagni per evitare di colare a picco in caso di una falla eventi come questi e non ne costruiscono una sola di queste enormi imbarcazioni ma addirittura un'intera flotta con 62 velieri come questi più centinaia di altri velieri più piccoli con un equipaggio complessivo che è un vero e proprio esercito e questa flotta viene mandata in missioni esplorative nell'oceano indiano lungo le coste dell'Africa per stabilire rapporti commerciali per raccogliere tributi per realizzare effettivamente esplorazioni da cui ad esempio importano animali esotici dall'Africa questi sono fatti se vogliamo di folklore più che altro il costo di tutto questo però è enorme talmente elevato che a un certo punto viene emanato una legge viene emanata una legge che vieta di costruire imbarcazioni così grandi in particolare imbarcazioni con più di due alberi a quel punto effettivamente la la Cina dei Ming entra in un periodo di chiusura ai contatti con l'esterno entra in una fase xenofoba che permane di fatto fino al XIX secolo entra gradualmente in un periodo di nuova decadenza anche che si presenterà in Cina anche quando di lì a non molto tempo dopo arriveranno i primi europei alla ricerca di nuove rotte commerciali ma questo lo vedremo più cosa succede in Corea in quest'epoca nel 1234 in Corea viene inventato anche qui la stampa caratteri mobili però stavolta a differenza di quanto fatto in Cina caratteri mobili metallici quindi l'invenzione è che noi abbiamo in mente come una tappa fondamentale del sviluppo tecnologico europeo in realtà come vedete ha avuto un precedente importante in Estremo Oriente in particolare in Corea più resistenti di quelli cinesi in Creta ovviamente viene a dire che a quell'epoca i coreani usavano ancora la scrittura ideografica cioè quella cinese di origine cinese se vogliamo formata da migliaia di caratteri per cui questa invenzione era poco efficace in quel contesto abbiamo già avuto modo di fare questa osservazione ciò non di meno nel 1367 con questa tecnica erano già in grado di realizzare il primo libro a stampa su carta ovviamente utilizzata stampa ottenuta per mezzo dei caratteri mobili metallici è lì che è stato stampato il primo libro e non in Europa un'ottantina di anni dopo come effettivamente è avvenuto in Europa ma non è stato il primo caso invece dopo qualche decennio una formidabile innovazione tecnico-culturale coreana è l'introduzione della scrittura fonetica a un certo punto i coreani si erano accorti che la scrittura ideografica di origine cinese con le sue migliaia di caratteri era estremamente pesante da gestire da imparare era un freno la diffusione culturale e quindi con una decisione pianificata a livello governativo da un reilluminato e affidando l'operazione a un comitato di saggi venne inventata di sana pianta e introdotta questo nuovo tipo di scrittura la scrittura fonetica che è del tutto simile alla nostra nel significato e nei contenuti anche se i simboli sono completamente diversi e a prima vista potrebbero sembrare quelli ideogrammatici non è così invece è una scrittura ripeto fonetica come il nostro alfabeto e grazie a questo sistema di scrittura nuovo la stampa a caratteri mobili metallici ovviamente trova piena sviluppo e capacità di sfruttamento andando in America invece che cosa succedeva più o meno nella stessa epoca in America in Nord America affiorivano le culture cosiddette Pueblo o Anasazi che però erano non molto dissimili dalle culture neolitiche e tardo neolitiche in Medio Oriente pensate alla Chattaluyuk del VII millennio avanti Cristo in Turchia le quali a un certo punto collassarono intorno al 1400 a causa di uno sviluppo eccessivo delle risorse naturali e anche che portarono a un esaurimento della fertilità dei terreni più a sud più a sud negli stessi periodi si sviluppa si afferma l'impero Ozeco di nuovo si tratta di una delle grandi civiltà precolombiane in America che raggiunge un livello di sviluppo tecnologico post-neolitico nel senso che lavoravano sì la pietra ma avevano già incominciato anche a lavorare i metalli in particolare quelli preziosi e marginalmente il rame non conosceva l'uso della ruota come nemmeno ad usi tecnici intendo come nemmeno gli altri popoli precolombiani faceva uso sistematico della schiavitù vedete che i modelli sociali sono abbastanza simili ma era in grado di costruire una grande città sull'acqua quindi erano anche notevoli su isole in una zona paludosa dove adesso è la città del Messico erano anche notevoli stavo dicendo ingegneri idraulici un pochino come la civiltà Khmer di cui abbiamo parlato la volta scorsa questa è la civiltà tra l'altro che troveranno i conquistadores spagnoli quando gli europei arrivano in America più a sud fiorisce la civiltà Inca che ha delle caratteristiche tecnologiche superiori a quelle degli azzechi capacità tecnologiche si sviluppa lungo la la catena montuosa delle Ande con propagazioni verso le pianure della Bolivia come vedete attuale in grado di sviluppare notevoli commerci è dotata di un sistema militare molto efficiente con grande mobilità qual è il segreto per realizzare queste cose ovviamente una rete stradale imponente che si sviluppa per 40.000 chilometri qui vedete in questo dettaglio la ramificazione delle strade imperiali Inca lungo le Ande con fondi stradali lastricati come questi e ovviamente capita di dovere anche superare dei profondi avallamenti allora in quel caso è bene utilizzare dei ponti si possono utilizzare ponti su zattere quando si incontra un fiume oppure nel caso di profondi avallamenti ponti su corde come questi nella realizzazione dei quali svilupparono una tecnica un'abilità veramente notevole che sta andando perduta perché ormai si sono dimenticate le tecniche di lavorazione di questo tipo di ponti ma erano anche dei grandi costruttori di edifici questi sono tipici edifici monumentali di Inca vedete le capacità di lavorazione della pietra quanto raffinate sono con queste strane forme che si combinano un pochino come dei puzzle per costruire nel complesso delle figure che hanno un certo significato nella combinazione delle diverse figure altre notevoli capacità Inca sono la lavorazione dei metalli che loro ormai controllavano questi sono questo è bronzo ottenuto con la tecnica della cera perduta vedete inventata anche qui in modo del tutto indipendente dalla cera perduta medio orientale europea indiana e così via e poi anche altre tecnologie più legate all'informazione diciamo anzi sicuramente legate all'informazione possiamo dirle senza tema i Kipu che vedete qui sono dei sistemi di cordicelle annodate che servivano per trasmettere dei messaggi quantitativi di diversa natura e anche l'uso di un abaco simile a quelli che abbiamo già incontrato in epoca antipeca in medio oriente e anche in Europa che appunto era controllata gli Inca sono un'altra delle civiltà precolombiane con cui si scontreranno i conquistadores spagnoli quando arriveranno in America molto lontano da lì in pieno centro dell'oceano pacifico intorno al 1400 raggiunge l'apice la cultura di Rapanui quella dell'isola di Pasqua raggiunge una cultura il suo apice si è sviluppata circa dal 1200 per circa 200 anni ed è una ancora una volta una società di tipo neolitico che sa lavorare la pietra e che fa uso del legno non conosce i metalli e che si caratterizza per la edificazione di questi grandi testoni in pietra che si chiamano Moai quando vedete rappresentati in questa fotografia più di uno che hanno un significato sociale religioso profondo per loro per cosa è caratteristica dal punto di vista tecnologico la civiltà di Rapanui beh per il fatto che a un certo punto proprio intorno al 1400 spinta dal fanatismo religioso con cui edificavano questi Moai arrivò a esaurire completamente all'assfruttamento totale delle risorse boschive fino a che non rimase neanche un albero nell'isola e con questo alterarono in modo irreversibile l'ecosistema arrivando al collasso totale della civiltà intorno al 1600 prima ovviamente che arrivassero un secolo dopo circa un secolo e mezzo dopo gli europei in altre parole fu una forma di suicidio socio-culturale socio-economico culturale mossa da da atteggiamenti di fanatismo irrazionale irresponsabile ancora una volta la dimostrazione che se non opportunamente governato lo sviluppo di una società può arrivare anche all'autodistruzione e con questo abbiamo finito anche per oggi arrivederci alla prossima lezione